Assessore Cuzzi, nuova ordinanza per Piazza Muzzi dopo un mese di Pax, se così la possiamo chiamare, avete deciso di tornare con un nuovo provvedimento leggermente anche più restrittivo rispetto a quello precedente? Il provvedimento in realtà è uguale, prevede le stesse misure che tendono dal lato a salvaguardare quelle che sono le attività nuove in quell'area che è stata riqualificata anche alla luce dell'apertura e della riqualificazione del mercato coperto che oggi veste nuovi panni anche di intrattenimento e poi per salvaguardare quella che è la legittima tranquillità dei residenti che hanno diritto al riposo. Noi vogliamo una città che comunque si muove sia dinamica dal punto di vista attrattivo e commerciale ma poi bisogna salvaguardare anche la tranquillità dei residenti, per questi motivi abbiamo riproposto l'ordinanza che era scaduta il 31 marzo, abbiamo lasciato un mese di pausa per vedere se il fenomeno fosse rientrato, in questo mese ci sono stati degli episodi di schiamazzi, degli episodi che hanno richiesto anche l'intervento delle forze dell'ordine più di una volta e quindi riproponiamo questo modello che non vuole essere una misura restrittiva nei confronti delle attività commerciali ma sicuramente va a reprimere ed educare quelli che sono i fenomeni di schiamazzi che non tengono a che fare nulla con le attività commerciali ma che sono solamente imputabili alla maleducazione di alcuni che escono la sera non per divertirsi ma per fare solamente confusioni e danni. Questo non è possibile nel centro della città e quindi vogliamo e interverremo in questa maniera per disciplinare attraverso gli orari e per cercare anche di educare coloro i quali vogliono uscire solamente per fare confusione.